Non riesce più a vivere e non si dorme, perché noi comunque siamo costretti a fare le notti, anche se le forze dell'ordine tentano di fare tutto il possibile, non uscite fuori, non sparate, però noi ormai siamo così terrorizzati che è diventato proprio un incubo, cioè dormire per noi è un lusso, non dormiamo più di 20 giorni. Rumori sospetti, grida d'aiuto, ombre che si dileguano tra i boschi, il profilo di un'auto forse che si intravede nella luce pallida della luna, l'indomani la notizia, un furto in appartamento, i proprietari addormentati con uno spray, più in là un altro colpo o un tentativo di irruzione, poi la fuga. Sembra il racconto di un incubo e invece è tutto vero, è la realtà che da due settimane a questa parte vivono quasi ogni notte gli abitanti di una frazione di Pozzuoli alle pendici della collina di Cigliano, tra via Cofanare e via Petrarse, dove ben sette case sono state svaliggiate e diverse altre abitazioni non sono state violate solo grazie al tempestivo intervento delle persone del posto. Il copione è sempre lo stesso, l'irruzione in casa, i movimenti studiati, la conquista della rifurtiva, monili, suppellettili, elettrodomestici, tutto ciò che si offre alla vista dei malviventi, perfino dolci e frutta sulla tavola ancora imbandita per carnevale. Si tratta di una banda, o forse di due, persone che nonostante l'impervietà della zona si muovono con disimoltura tra la vegetazione della collina. Nessuna certezza però sulla loro identità, solo molti dubbi e qualche sospetto. Intanto tra la gente del posto scoppia il panico e nonostante l'intervento dei carabinieri e il pattugliamento dell'area, altri colpi sono stati portati a segno, l'ultimo appena due giorni fa, tanto da spingere gli abitanti a organizzare vere e proprie ronde notturne in affiancamento alle forze dell'ordine. Una vicenda tanto surreale quanto preoccupante, che con il suo protrarsi esasperante non smette di alimentare l'aspirazione delle persone, ormai stremate dalla paura e dalle troppe notti insonni, a ritrovare la naturale, eppure quasi dimenticata, quotidianità.